Ci siamo, è la settimana cruciale per il Partito Democratico. Domenica 8 dicembre, con l'esito delle primarie, non si deciderà soltanto il nuovo segretario del partito, ma in un certo senso le sorti di questo governo e di conseguenza del Paese. È una data che anche i sostenitori aritini dei tre candidati nazionali attendono con ansia e in queste ore si stanno affilando le armi, anche se, tra slogan e proclami, la differenza tra i tre candidati si percepisce poco. In testa c'è lui, Matteo Renzi, il rottamatore per eccellenza, che perlomeno su alcuni temi, come il rinnovamento e il cambiamento, può dire di avere il primato. La lista dei candidati aritini presentata per l'Assemblea nazionale, che sosterà il sindaco di Firenze, è guidata da Matteo Bracciali, classe 84, giovane capogruppo del PD di Arezzo, da sempre punto di riferimento per Renzi. Con lui, in una lista che ha un'età media di 36 anni, ci saranno Lara Chiarini-Gianghiari, Sergio Chienni di Terranova Bracciolini, Martina Serevelli di Prato Vecchio, Enzo Franchi di Marciano della Chiana, Stefania Maggi, assessore all'integrazione del Comune di Arezzo e Alessandro Ferri di Cortona. Arezzo Percivati risponde subito e lo fa anche con una battuta sarcastica come è nello stile del candidato. La nostra lista, si legge, è differente, come recitava, ci ricordiamo lo slogan di una nota banca che... La nostra lista, si legge, è differente, come recitava, se vi ricordate, lo slogan di una nota banca, ma questo ovviamente è solo uno scherzo. E poi ancora, Arezzo Percivati, il cambiamento lo fa, mentre altri lo predicano. E allora, avanti con il rinnovamento, con Barbara Croci, che rappresenta la Valtiberina, Lisa Bucchi, il Casentino, Francesca Basanieri, la Valdichiana, Francesco Simoni per il Valdarno, e poi ancora Donato Caporali, Filippo Gallo e Stefano Gasperini, quest'ultimo vice sindaco e assessore al bilancio del Comune di Arezzo. Siamo in campo per il cambiamento, ha affermato Enrico Casini, coordinatore regionale della mozione Cuperlo. Vogliamo promuovere l'idea di un partito profondamente nuovo. Anche se poi, leggiamo nella lista dei sette candidati, personaggi decisamente un po' più navigati. Capolista è infatti Sauro Testi, sindaco di Buccine, al secondo posto Erika Falsini, impegnata in questi anni come responsabile provinciale della PD per le politiche di genere. E poi ancora Andrea Lanzi, consigliere comunale di Arezzo e segretario comunale uscente. Al quarto posto Maria Acquaviva, assessora alla scuola del Comune di Foiano della Chiana, e poi Marcello Polverini, imprenditore agricolo di Sansepolcro, Francesca Sansoni, insegnante di San Giovanni Valdarno, e Carlo Pasqui, studente classe 92, iscritto ai giovani democratici di Cortona. Insomma, a quanto pare, chiunque vinca il rinnovamento ci sarà. Ma allora le primarie a che cosa servono? Agli elettori l'ardua sentenza è, come si suol dire, vinca il migliore, anzi il più rottamatore.